Francesco Petrarca è uno degli autori della nostra letteratura italiana, tra i più prolifici. Ha scritto tantissime opere e tutta la sua vita è segnata da momenti particolari in cui la scrittura si è trasformata anche in una modalità per raccontare le sue stesse passioni. Sicuramente nelle sue opere troviamo tantissime informazioni che lo ricollegono a passioni importanti come per esempio il mondo classico oppure a temi fondamentali come per esempio quelli etici, quelli morali, quelli politici anche, che non furono altro che un'espressione di un interesse reale che nella vita si manifestò poi nel suo continuo dissidio interiore tra il cielo e la terra, tra cioè l'aspirazione a essere un uomo di Dio fedele alla parola e dall'altra parte contemporaneamente un uomo con i piedi ben radicati in una umanità che era fatta, che era fatta di amore, che era fatta di passione anche per la vita politica e per gli alti valori che egli stesso intendeva nella accezione propria della politica. Le sue opere possono essere fondamentalmente divise in due grandi categorie, quelle in latino e quelle in volgare. Certamente il patrimonio maggiore che Petrarca ci ha lasciato è quello delle opere in latino che sono tantissime, vastissime, alcune completate, altre invece rimaste incomplete. Però sicuramente le opere in latino sono l'espressione massima di tutte le sue passioni, a cominciare per esempio da quelle relative al mondo classico per il quale sappiamo che Petrarca nutrie una passione enorme, non soltanto per un interesse filologico, ma per quella cultura, ma soprattutto per i valori che all'interno di quel mondo lo stesso Petrarca ritrovava. La convinzione è che appunto quel mondo rappresentasse un mondo superiore rispetto a quello suo attuale del suo periodo, cioè dal punto di vista soprattutto culturale ed etico. Per questo motivo per esempio tra le sue opere più importanti in lingua latina troviamo il De Viris Illustribus e contemporaneamente Rerum Memorandarum Libri. Due opere importanti perché nel raccogliere le biografie degli uomini illustri del passato così come i fatti importanti realizzati da grandi uomini del passato sembra quasi che Petrarca voglia mostrare concretamente degli esempi praticabili di valori, di capacità di incarnare valori etici importanti anche nell'attuale, nel mondo attuale, nel suo mondo. Altre opere importanti non terminate furono l'Africa dedicata a quello scipione all'africano che tanta parte ebbe nelle guerre puniche, in particolar modo nella seconda guerra punica e qui l'opera è un poemetto scritto in esametri, l'esametro era proprio una misura diverso utilizzata nel mondo classico quindi anche in questo c'è un ripercorrere le tappe appunto di quella sua passione. Altra passione importante che sappiamo essere molto forte in Petrarca è quella per Virgilio e a questo si ricollega il poemetto pastorale Bucolicum Carmen che appunto utilizza il racconto del mondo pastorale Bucolicum dell'antichità come sfondo per raccontare poi i fatti del suo presente all'interno di questo Carmen per esempio troviamo diversi riferimenti alla impresa rivoluzionaria di Nicola di Rienzo alla posizione che fu anche dello stesso Petrarca di contrasto e di critica alla curia papale corrotta e costretta anche al trasferimento ad Avignone. Altri temi delle opere latine quelle di argomento etico religioso etico e quindi filosofico anche qui ritornano i temi propri dell'antichità come per esempio la ricerca della felicità tema presente in tantissime opere in generale scritte dal genere umano però in questo caso riportandosi al mondo classico la felicità è concepita come quel luogo sereno fuori dagli impegni mondani della vita che riconduce direttamente all'equilibrio interiore che si può ottenere soltanto quando si mette a tacere il mondo esterno e si ritrova dentro di sé nel discernimento personale che si mette a tacere il chi sono io e quindi i valori interiori che si possiedono. a questi temi Petrarca ha dedicato diverse opere tra le più importanti sicuramente dei remedi su cui fortune cioè i rimedi sull'una e sull'altra condizione che nei confronti della fortuna è possibile avere ossia i rimedi per la buona e la cattiva sorte. In questo senso in quest'opera ci sono dei personaggi che ragionano su alcuni temi come quello della speranza, della gioia, della paura, della ragione. in questo torno il modello senechiano in cui cioè si esaminano rispetto ad un tema i vizi e le virtù collegate a quel tema stesso se il tema è la felicità per esempio vizi e virtù e quindi felicità ed infelicità in questo senso triusque fortune appunto la buona e la cattiva sorte. alla fine quello che deduciamo da quest'opera come posizione che Petrarca mantiene che analizzate l'uno e l'altro aspetto di qualsiasi virtù il saggio deve avere la capacità di rimanere in una posizione superiore ai fatti della realtà della vita esterna fermo, rigidamente fermo ad un proprio equilibrio interiore che appunto lo pone in una posizione imperturbabile. a questa visione intimista di ricerca dell'equilibrio interiore che è l'unica posizione che può salvarci di fronte all'inquietudine che il mondo crea sono dedicate altre due opere in lingua latina, il De vita solitaria e il De ozio religioso e poi sicuramente l'opera più importante in questo senso che è il Secretum un'opera importante perché ripercorre i temi della interiorità alla luce dei dialoghi di Sant'Agostino si immagina nel Secretum un dialogo tra Sant'Agostino e San Francesco e un dibattere appunto riguardo ad alcuni temi importanti sicuramente il tema prevalente nel Secretum è quello della difficoltà che ogni uomo prova nel trovare una posizione equidistante tra le passioni terrene e quelle della propria fede che a volte sembrano essere in contrasto, in contraddizione e questo porta l'uomo a vivere un dissidio interiore fortissimo questi i temi che ritroviamo nelle opere in particolar modo in queste opere morali e poi tra le opere scritte in latino altri temi che troviamo rappresentati soprattutto da opere minori in particolare le invettive o le opere polemiche opere che sono state scritte con una tecnica particolare che è appunto quella propria dell'invettiva e della dialettica e che riguardano tematiche apparentemente avulse dalla realtà perché riguardano temi scientifici, filosofici e invece sono proprio legati al rapporto tra il mondo pagano dell'antichità e il mondo attuale cristiano e il dibattito sulla superiorità o sulla capacità o meno dell'una o dell'altra posizione di rispondere ai temi dell'attualità della vita attuale vissuta possiamo dire in generale quindi che all'interno delle opere in latino Petrarca racconta comunque lo stesso suo dissidio che poi ritroviamo anche nelle opere in volgare quello cioè tra passioni prettamente terrene prettamente umane che non sono soltanto quelle sentimentali ma che sono anche quelle legate per esempio all'impegno per un mondo diverso rispetto alla corruzione fortemente presente sia nella politica che nel mondo curiale della curia papale rispetto a questi temi lo stesso Petrarca cerca proprio nell'antichità delle possibili soluzioni e dei possibili esempi positivi Grazie a tutti Grazie a tutti